Gruppo PD polemico in Consiglio Provinciale, non vi sta bene neanche che la provincia paghi finalmente più di 8 milioni di euro alle imprese? Paga con i soldi che erano in cassa dal 2009, quando noi abbiamo detto a fronte delle polemiche che ci sono state che la cassa della provincia era piena di soldi, circa 27 milioni di euro costantemente dal 2009 fino ad oggi dove ci sono ancora circa 20-22 milioni di euro. Tant'è che questa provincia a fronte di un decreto che ha messo a disposizione l'anticipazione di cassa e lo sforamento del patto di stabilità non ha utilizzato l'anticipazione di cassa, non ha chiesto al Ministero il prestito per pagare le imprese che hanno fatto il lavoro, ma hanno chiesto solo lo sforamento del patto di stabilità, che tra l'altro avevano sforato pure l'anno scorso senza essere autorizzato dal governo, uno sforamento che garantisce il pagamento delle imprese che hanno lavorato. Hanno lavorato attraverso appalti pubblici che sono stati fatti pure dalle passate amministrazioni, perché questa amministrazione purtroppo le ha appalti pubblici, le ha fatti pochissimi investimenti, quasi zero rispetto all'amministrazione Coletti e all'amministrazione Febbo. Lo voglio ricordare, Febbo 100 milioni di investimenti, Coletti 170, questa amministrazione in 4 anni nemmeno 4-5 milioni di euro di investimenti.